Allora, vediamo come installare la nostra versione di Office 2003 Nella pagina che vi ho preparato sul sito abbiamo questo link clicchiamo e si apre la pagina media file nella quale abbiamo i file che ci servono clicchiamo su scarica file e naturalmente in dipendenza della velocità della nostra rete dobbiamo attendere il completamento del download del nostro file Ora, supponiamo che abbiamo completato il nostro download in una cartella del computer avremo quindi questo file in genere è nella cartella download che avremo il nostro file quando sarà stata completata il trasferimento supponiamo che abbiamo adesso portato questa cartella questo file, scusate nel disco C a questo punto clicchiamo sul file grazie a tutti se vi esce questo messaggio cliccate su sì vi richiede vi richiede una password che è Dante Alighieri adesso vi chiede in quale cartella volete inserire i file che sono presenti in questo archivio clicchiamo per esempio su sfoglia per esempio facciamolo nel disco C e creiamo per esempio una nuova cartella chiamiamola Office2003 per esempio assicuriamoci di selezionare questa cartella quindi la cartella di destinazione sarà C Office2003 clicchiamo su installa e adesso estraiamo dall'archivio che abbiamo scaricato da internet tutti i file che ci occorrono che ci occorrono quindi adesso c'è questa cartella in genere esce questo messaggio ignoratelo c'è questa cartella la possiamo aprire qua ci sono tutti i file necessari per l'installazione prestate particolare attenzione a questo file seriale incominciate ad aprirlo tenetelo aperto perché i suoi dati ci serviranno poi cercate il file di setup e lanciate l'esecuzione dell'installazione vi esce questo messaggio rispondete di sì adesso inizi il processo di installazione chiede i codici li andate a prendere da questo file che ci sono l'incollate come faccio adesso grazie a tutti cliccate su avanti qua nomi utenti iniziali mettete qualcosa di qualsiasi accettate i termini del contratto di licenza andate avanti vi propone di installare in questa cartella cliccate su avanti installa grazie a tutti 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 Grazie. 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 Non selezionate questa opzione. Per risparmiare spazi, neanche questa, fate fine. Ora, avete installato sul vostro computer anche la versione Office 2003, che coesisterà tranquillamente con l'Office che eventualmente avete già sul vostro computer. Quindi adesso potete iniziare a esercitarvi. Grazie. 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 Grazie.